La chiesa di San Martino a Cofferi a Mercatale Valdipesa è stata messa in sicurezza. Lo hanno confermato le verifiche attivate dopo lo sciame sismico che ha colpito la zona. Nell'edificio religioso risalente al XII secolo sono state trovate delle crepe che saranno sistemate con lavori di restauro. Anche tre famiglie che vivono nell'area attorno alla chiesa sono state evacuate ma solo a scopo precauzionale. E' stata anche la decisione di chiudere la scuola media Leonardo da Vinci a Figline Valdarno per delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica. Insomma la paura è stata molto più grande dei danni e si può rapidamente tornare alla normalità. Quello che possiamo dire non essendo in grado di prevedere l'evoluzione della sequenza probabilmente finirà nel giro di pochi giorni o magari andrà avanti ancora qualche settimana ma certo non possiamo né prevedere né escludere che ci siano terremoti più forti di quelli finora registrati. Quindi invitiamo la popolazione soprattutto di informarsi. Informarsi sulle condizioni della casa in cui si abitano, sulle caratteristiche della sesmicità della propria area e anche di imparare a prendere quei comportamenti virtuosi che si possono adottare ciascuno di noi in sicurezza nel caso di un terremoto anche più forte e che possono contribuire a salvare molte persone.